Musica Noi quando ci siamo approcciati a questo corso, devo dire che abbiamo avuto un po' di attenzione e di cautela in più perché non era uno dei soliti corsi che abbiamo sempre programmato, ma era un corso nuovo in cui si dovevano affrontare problematiche diverse, sia dal punto di vista diciamo organizzativo e didattico nostro, sia dal punto di vista dell'approccio con gli allievi. Il rischio di un abbandono e il rischio di non trovare professionalità tali da poter fornire un servizio di erogazione di qualità appunto era alto, invece il livello di abbandono è stato al di sotto della media che noi registriamo in percorsi analoghi e il successo formativo come è dimostrato dagli esiti degli esami di certificazione è stato invece elevato. Dal punto di vista dell'ente è un grande successo quando un corso viene erogato e i partecipanti arrivano alla fine più o meno tutti quelli che sono partiti, ma non solo, cioè per noi è molto importante, infatti facciamo anche questo tipo di verifiche, che ai 6 mesi e ai 12 mesi dopo la conclusione del percorso alcuni degli allievi stiano lavorando. Abbiamo notizia che diversi stiano già iniziando a lavorare, la più grande soddisfazione che noi abbiamo avuto però è che uno di loro, oltre ad un lavoro suo che si è procurato, sta lavorando anche per l'istituto, per noi, nella nostra sede di Oristano. Grazie a tutti.